Un murales che propone l'immagine, probabilmente più nota anche al di fuori dei confini nazionali, di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. A Venafro, dopo l'intitolazione della piazzetta antistante la stazione ferroviaria ai due magistrati antimafia risalenti allo scorso gennaio, ora, nello stesso luogo, la dedica di un murales appunto. L'ormai inconfondibile sorriso dei due eroici servitori dello Stato, vittime degli efferati attentati del 1992, raffigurato grazie all'opera dei ragazzi del collettivo divergente. L'associazione, la cui mission, leggiamo da uno dei profili social del Sodalizio, si sostanzia con l'ideazione e la messa in atto di ogni tipo di manifestazione o evento che promuova e favorisca la divulgazione culturale e l'aggregazione sociale. Come gruppo, come collettivo abbiamo saputo dell'intitolazione alla piazza, abbiamo voluto esprimerci con un'opera di street art, e in più proprio la voglia di lasciare un segno tangibile ai ragazzi, in modo tale che si faccia qualche domanda, che cos'è Falcone e Borsinio? Non è una fiction o un piccolo articolo di giornale. Falcone e Borsinio sono due persone che sono morte per noi, sono morte per colpa di qualcuno, e sarebbe il caso che questi ragazzi iniziassero a farsi delle domande.